Se prendete posto mi fate una cortesia così riusciamo a recuperare qualche minuto. Forse è una buona strategia e se qualcuno chiude le porte così segnaliamo che... La seconda parte della mattina è dedicata al contributo di quelli che poi sono alcuni dei pilastri dell'attività dei cluster che non sono altro che delle azioni di coordinamento ma che si evidentemente avvalgono del lavoro del Sistema Nazionale della Ricerca in tutte le sue componenti. Quindi abbiamo Francesco Loreto che è direttore del Dipartimento di Scienze Bialementali del CNR che discuterà con noi del ruolo dei centri di ricerca nazionali nel cluster biotech in Italia e Mario Bonaccorso di Federchimica Assobiotech che ci parlerà delle biotecnologie industriali come motore della bioeconomia. Quindi raccomandandovi di rimanere nei tempi perché siamo veramente molto stretti cedo la parola a Francesco Loreto. Grazie. Io ringrazio ovviamente gli organizzatori ma soprattutto l'assessore Liberali e il direttore dell'Alzia Romaniello per l'invito molto gradito nel mio caso poi io qui sostituisco indegnamente il Presidente del CNR perché era stato anche invitato il Presidente del CNR quindi in realtà io avevo preparato una presentazione non sapendo cosa aspettarmi che un po' riguarda il CNR, un po' riguarda il Dipartimento, un po' riguarda il ruolo del CNR e del Dipartimento nei cluster e particolarmente nei cluster che riguardano la bioeconomia. Quindi andrò molto rapido soprattutto con la prima parte della presentazione probabilmente molti di voi non hanno bisogno di sapere che cos'è il Consiglio nazionale delle ricerche che è la più grande organizzazione di ricerca che c'è in Italia, circa 10.000 persone, più del 60% sono dei ricercatori più di 3.000 persone a tempo determinato con contratti di lavoro siamo divisi in 7 macro aree che sono i dipartimenti, li vedete alle mie spalle io sono il direttore del Dipartimento Cerchiato, cioè Biologia, Agricoltura e Cibo 103 istituti di ricerca, 20 aree della ricerca, distribuite in Italia in maniera abbastanza omogenea come vedete, circa 30-35 per ogni area geografica, parlando di nord, centro e sud anche le aree della ricerca sono distribuite grosso modo in tutta Italia vedete qui, vedete tra l'altro l'area della ricerca in Basilicata di ricerca di potenza con tre strutture e 105 unità di personale anche la distribuzione del personale è abbastanza equilibrata ci sono soltanto alcune piccole regioni nelle quali noi non siamo presenti in realtà siamo presenti con delle unità di ricerca presso terzi che è un'altra delle strutture con cui il CNR si interfaccia appunto con il territorio ma direi che è abbastanza capillare la nostra presenza in tutto il territorio italiano anche se il 50% delle unità di personale afferisce a tre regioni che sono la Lazio, la Toscana e la Campania anche in Lombardia siamo molto presenti questo ha delle motivazioni abbastanza storiche distribuzione abbastanza equa anche in termini di gender balance come vedete è grosso modo tra le donne e gli uomini e risorse per dipartimento pure distribuite in maniera tale che rispecchiano anche le composizioni dei vari dipartimenti per esempio noi dipartimento bioagri alimentari contiamo per circa il 10% del CNR e infatti abbiamo grosso modo questo tipo di risorse qua andrò veramente molto rapido semplicemente per farvi vedere che i sette dipartimenti sono oltre al dipartimento che io dirigo scienze bioagri alimentari dipartimento di scienze fisiche e tecnologie della materia scienze biomediche scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente chimica, ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia e trasporti e infine scienze umane e sociali quindi a coprire praticamente tutte le aree scientifiche, tecnologiche ma anche umanistiche, sociali e giuridiche che si possano immaginare ora per quanto riguarda il CNR in Basilicata concentrato fino a poco tempo fa su Potenza, nell'area della ricerca del CNR di Potenza con tre istituti di tre diversi dipartimenti come vedete da circa sei mesi abbiamo aperto invece noi proprio del dipartimento di scienze bioagri alimentari una unità di ricerca presso terzi proprio qui all'agrobios quindi ecco perché sono particolarmente contento di essere qui in qualità di direttore di questo dipartimento a rappresentare appunto l'ente queste sono le principali collaborazioni scientifiche che l'ufficio della direzione generale mi ha fornito appunto quando il presidente ha nominato me come suo rappresentante oggi in questa riunione io ho aggiunto ovviamente l'Alsia che appunto recentissimamente è il nostro partner in questa nostra nuova avventura e qua vedete alcune delle indicazioni sui vari istituti che sono presenti a Potenza per quanto riguarda le metodologie per l'analisi ambientale la struttura della materia i beni archeologici monumentali come vedete in questo caso ancora l'istituto di bioscienze e biorisorse abbiamo qui il direttore tra l'altro dell'istituto Beppe Vendramin che parlerà poi nella tavola rotonda conclusiva non avevano ancora definito il numero di ricercatori di unità di personale complessive ma in realtà ci sono già due penso unità di personale che lavorano presso il centro di ricerca di agrobios queste sono alcune competenze scientifiche appunto nelle varie aree questa è una slide piuttosto interessante perché ci fa vedere qual è l'indice di attrattività noi lavoriamo spesso con questo indice di attrattività cioè quante risorse esterne riusciamo a trarre rispetto al totale delle risorse e questo indice di attrattività è 1,75 per quanto riguarda la Basilicata vuol dire che riusciamo a trarre 75% di più di risorse esterne rispetto a quelle interne rispetto a quelle che noi abbiamo quindi questa è abbastanza ben diffusa per quanto riguarda chi paga ecco queste risorse esterne però vedete che il 57% in realtà vengono da risorse che riguardano FOE o università o altre cose del genere quindi molta collaborazione adesso vi parlo brevissimamente del dipartimento per dirvi una cosa che è importante qui cioè che la missione del dipartimento che io dirigo è di organizzare la ricerca fondamentale e applicata sia dal punto di vista scientifico che tecnologico per lo sviluppo e la valorizzazione della bioeconomia quindi siamo esattamente esattamente quello di cui stiamo parlando oggi e questo per contribuire alle grandi sfide ambientali di cui avete già i miei precedenti relatori hanno già ampiamente parlato quindi dare abbastanza cibo, acqua ed energia il problema del nexus molto importante alla popolazione che cresce e l'uso sostenibile delle risorse soprattutto di quelle naturali che sono limitate quindi sicuramente questi sono i grandi temi noi li affrontiamo con nove istituti come vi ho già detto l'istituto di bioscienze e biorisorse è quello rappresentato appunto in Basilicata ma i nuovi istituti coprono un po' tutte le aree della biologia, dell'agricoltura e delle scienze alimentari molto importanti per le scienze alimentari i due istituti di Avellino e di Bari l'istituto delle scienze di food science e l'istituto di science of food production il secondo è più sulla parte food safety quindi la sicurezza alimentare intesa appunto come salubrità delle produzioni mentre il primo è più sulla parte food quality in totale vi ho detto circa il 10% della massa del CNR quindi circa 800 persone interessate alla ricerca di cui 474 ricercatori e la nostra ricerca è veramente multidisciplinare un altro dei grandi aspetti è la bioeconomia che non riguarda soltanto una ricerca di filiera o una ricerca disciplinare questo è vero sempre al CNR al CNR tutte le nostre ricerche proprio perché ci sono sette dipartimenti che coprono tutto lo scibile umano tutte le ricerche sono delle ricerche molto interdisciplinari questo è il valore aggiunto che noi diamo e quindi il nostro dipartimento sta un po' nel mezzo tanti altri dipartimenti per esempio collaboriamo tanto con le scienze ambientali per tutto quello che riguarda le scienze forestali di cui si è parlato oggi e anche la parte della pesca con medicina lavoriamo sulla parte di biologia per esempio cibo e salute con chimica la chimica verde di cui pure avete abbondantemente parlato e con la fisica e l'ingegneria tutta la parte di bioingegneria o di geoingegneria una cosa interessante del dipartimento che presento sempre è il nostro grande interesse sull'innovazione noi abbiamo 52 brevetti e mentre normalmente in Italia gli enti di ricerca, le università riescono a sfruttare economicamente circa il 10% dei brevetti noi ne abbiamo sfruttati economicamente il 50% quindi siamo di gran lunga sopra il benchmark e questa è una cosa di cui siamo molto orgogliosi molto fieri perché vuol dire appunto che selezioniamo bene i nostri brevetti sappiamo già dove dobbiamo andare a parare dove veramente dobbiamo buttare le nostre tecnologie le nostre competenze qui ci sono tre casi il primo caso è il caso di un brevetto in cui abbiamo nascosto il glutine facendo in maniera tale che anche i celiaci possono mangiare pane con glutine però il secondo è un brevetto di olivo il terzo è particolarmente interessante probabilmente anche in quest'area un brevetto che mette assieme la parte ingegneristica con la parte forestale sono delle case di legno molto importanti perché resistono molto bene ai terremoti quindi per esempio all'Aquila sono state poi usate moltissimo purtroppo dopo il terremoto e non prima il terremoto e adesso veniamo ai cluster allora il CNR ha un ruolo importante in praticamente tutti i cluster ovviamente nel caso della bioeconomia cluster clan e il cluster spring noi siamo rappresentatissimi in tutti e due i casi partecipiamo sicuramente attivamente sia alle riunioni sia alle call poi quando le call vengono fatte ma non ci fermiamo lì cioè noi facciamo anche parte di tutti i cluster regionali per esempio Catal è uno dei più importanti ho visto che c'è una brochure di Catal che viene rilasciata nel pacchetto che abbiamo quindi potete anche dare un'occhiata lì e andiamo ancora avanti cioè ci spingiamo avanti verso queste politiche che ormai come avete già visto questa mattina vanno oltre Horizon 2020 quindi siamo tra i soci principali del Food Nexus che è la KIC la Knowledge Innovation Community sulla Food Science che sta partecipando spero con successo alla call attuale siamo partner principali della JPI della Joint Programming Initiative Healthy Food for Healthy Life quindi tutto quello che riguarda Empadasi e questo tipo di attività e infine vi voglio anticipare che mi risulta almeno però poi forse Fabio o qualcun altro me ne può parlare meglio che l'Unione Europea è interessata a lanciare un progetto sulla fotosintesi che si chiama Eurofotosynthesis ha chiesto a Wageningen University di creare questo progetto e quindi Wageningen ha chiamato proprio noi come partner di questo progetto per cercare di lanciare questa flagship project stiamo parlando di un progetto di 2 miliardi di euro come le altre flagship project nelle quali il CNR proprio per questa sua grande azione di internazionalizzazione da un lato e soprattutto di competenze scientifiche è rappresentato quindi Grafene e Human Brain gli altri due grossi progetti flagship attualmente in corso si è parlato di Expo va bene noi abbiamo avuto un ruolo particolarmente importante in Expo perché eravamo i consiglieri scientifici del Padiglione Italia quindi abbiamo lavorato moltissimo 24 eventi io praticamente sono stato prima linea da maggio a ottobre 24 eventi vuol dire un evento a settimana praticamente ad Expo e più quelli che abbiamo fatto con la regione Lombardia e più tutta una serie di altre cose che non vi starò qui a dire ma l'importante adesso è il post Expo e sul post Expo voi avrete sentito non più tardi di un paio di settimane fa che c'è stato l'accordo che noi al CNR aspettavamo con ansia tra il nostro nuovo presidente appunto Massimo Inguscio e il presidente dell'IT Roberto Cingolani dentro tutti i giornali c'è stato questo trafiletto il CNR entra in Human Technopole vero confermiamo ovviamente per quello che sappiamo noi c'è un accordo finanziato da tutti e due i lati io lunedì sarò a Milano per cercare di strutturare appunto la rappresentanza CNR per quanto riguarda ovviamente la parte nutrizione e fenotyping che è l'altro grosso argomento di cui si parlerà ad Expo noi abbiamo una serie di progetti strategici ovviamente all'interno del CNR tutti calibrati nel nostro caso sulla bioeconomia questo è il progetto premiale acqua e quindi sull'uso sostenibile della risorsa idrica e parte ovviamente dalle agrotecnologie per finire alle biotecnologie per il miglioramento delle risorse idriche ma l'iniziativa di cui mi preme forse più parlare è l'iniziativa sul fenotyping noi abbiamo una serie abbiamo costruito una serie di unità di ricerca appunto per cercare di lanciare questa grossa iniziativa che a livello europeo ha già un senso esiste un European Plan Fenotyping Network e un International Plan Fenotyping Network e che in Italia ancora ha soltanto una grande infrastruttura di fenotyping che è proprio quella di Agrobios qui dove ci troviamo non so se Francesco Celdini vi ha fatto fare un giro già per la sua bellissima struttura però spero che ve lo faccia fare perché è veramente importante noi come come Disba crediamo a un approccio dove la fenotipizzazione cioè praticamente vedere in campo o vedere in serra o vedere in piccole strutture come effettivamente una pianta cresce e produce è il prodotto di tre diverse cose cioè la genetica l'ambiente e il management quindi questo è quello che vogliamo fare l'abbiamo fatta appunto in condizioni di laboratorio abbiamo fatto in condizioni di campo adesso lo facciamo anche in condizioni remote con infrastrutture particolari e con sensori particolari e quindi riusciremo sicuramente a mettere insieme questa iniziativa che copre in maniera trasversale le cinque grandi aree di cui noi ci occupiamo e che sono appunto come avevo fatto vedere prima la nostra keyword la nostra missione è la bioeconomia e quindi hanno tutto un senso dal punto di vista della bioeconomia cioè l'intensificazione sostenibile delle produzioni agricole e forestali che è la prima area l'ottimizzazione dell'uso delle risorse naturali la multifunzionalità di cui si è tanto parlato oggi ma che non è ovviamente la cosa esclusiva in agricoltura nelle scienze forestali addirittura nelle scienze come avete visto della tecnologia del legno e così via la produzione e la protezione del cibo e le nuove frontiere della nutrizione queste sono le cinque grandi aree di cui ci occupiamo e per fare questo abbiamo lanciato insieme ad Alzia e ad Agrobios l'Italian Plan Fenotyping Initiative con questo workshop che è stato tenuto il 18 febbraio all'aula convenio del CNR a Roma e con il quale stiamo costruendo una GRU una Joint Research Unit per partecipare al progetto ESPRI alla roadmap ESPRI e la Research Infrastructure e l'enfasis appunto sul plan fenotyping le ultime due slide sono su un altro grossissimo progetto su cui vorremmo appunto che la regione basilicata fosse coinvolta in maniera molto pesante ed è il progetto PRIME Project on Research and Innovation in the Mediterranean Area che invece è un progetto che in questo momento è una coordination and support action diventerà speriamo un articolo 185 e come vedete nel Sustainable Development Goals che sono listati ce ne sono una quindicina e sono tutti dei goals che sono molto importanti appunto per la bioeconomia e sulla quale sono convinto che insieme possiamo dire parecchie cose sono stato nei tempi? Grazie Grazie mille perfettamente nei tempi parola quindi a Mario Bonaccorso di Peternichini Casso di Almeida grazie Buon giorno a tutti vorrei naturalmente ringraziare l'assessore Liberali Alsea non solo per per l'invito mi fa molto piacere di tornare qua a Metaponto da Metaponto Agrobios ma soprattutto perché penso che già fino adesso insomma è stato veramente un incontro molto positivo posso dire torno a casa almeno con tre notizie cioè non solo che la regione basilicata si dota di un cluster sulla bioeconomia e questo mi sembra già una notizia molto importante perché mette insieme settore agroalimentare e chimica verde ma perché abbiamo sentito oggi io personalmente con molto piacere le parole del dottor Calderini per cui l'Italia si doterà entro l'estate di una strategia sulla bioeconomia siamo ormai l'unico grande paese in Europa che non ha una strategia e che all'interno di questa strategia sarà previsto un sistema di appalti pubblici verdi questo è un tema che noi come Assobiotec abbiamo sostenuto da sempre sosteniamo oggi con grande forza quindi già queste sono notizie davvero molto importanti musica per le nostre orecchie io sarò molto breve perché mi rendo conto di avere anche un compito difficile nel senso che sono l'intervento che vi separa dalla discussione e poi dal pranzo allora io rappresento Assobiotec due parole davvero molto velocemente su Assobiotec Assobiotec è l'associazione che dentro il sistema confindustriale rappresenta le imprese e i parchi scientifici attivi nel campo delle biotecnologie naturalmente le biotecnologie sono una tecnologia quindi per loro natura sono pervasive andiamo in diversi settori merceologici dalla farmaceutica alla diagnostica l'area della salute siamo in uno dei centri di eccellenza della ricerca agrobiotecnologica quindi naturalmente noi siamo attivi le nostre imprese i parchi nell'area cosiddetta green e poi l'area wild cioè l'area industriale e l'area ambientale oggi rappresentiamo più di 140 imprese e parchi scientifici siamo costituiti all'interno di FederChimica dal nostro punto di vista le biotecnologie industriali sono davvero il motore della bioeconomia voi sapete insomma sono definite come tecnologie chiave abilitanti questo riconoscimento non è solo da parte della commissione europea e oggi le imprese che investono nella bioeconomia di fatto ruotano interamente intorno alle biotecnologie industriali non solo in Italia in tutto il mondo oggi basta chiudere gli occhi prendere un'impresa chimica qualsiasi e scopriremo che ha almeno un responsabile biotecnologie c'è la L'Oreal c'è la Levonik c'è la Enkel che fa detersivi quindi oggi le biotecnologie sono una parte importante di investimenti dell'industria chimica e questo è un fatto dirompente perché noi abbiamo conosciuto le biotecnologie fino ad oggi soprattutto nel campo della salute oggi l'industria farmaceutica ha come leva di sviluppo quasi unica il biotech tant'è vero che le grandi big pharma oggi sono da società farmaceutiche società biofarmaceutiche cosa sta avvenendo sta avvenendo che gli investimenti adesso anche dell'industria chimica sono sempre più forti nel campo delle biotecnologie è inutile insomma che io poi mi soffermi qua di fronte a una platea di ricercatori su quali sono poi le funzioni e come operano tecnicamente le biotecnologie per oggi possiamo dire insomma che molti processi molti prodotti sono sviluppati grazie all'utilizzo delle biotecnologie questo cosa significa quindi appunto che stiamo assistendo anche ad un grandissimo fermento sul mercato c'è l'industria chimica sempre di più dialoga con l'industria biotecnologica ci sono partnership l'ultima firmata questa settimana in Olanda tra Basf e Avanzium per produrre una nuova plastica biobase grazie alla tecnologia di Avanzium ma qua vedete insomma l'esempio che io faccio sempre è quello di Clariant grande società chimica che fa un'acquisizione in Germania la Suchemi la Suchemi che sviluppa un bioetanolo di seconda generazione diventa il gruppo biotecnologie di Clariant in Italia abbiamo partnership diversali con genomatica la stessa Novamont per fare il biobutandiolo in Veneto e abbiamo invece dall'altra parte Novozymes cioè uno dei maggiori player nel mercato degli enzimi che acquisisce una parte di Beta Renewables una società del gruppo Moshe Ghisolfi che di fatto è la società biotecnologica che tra l'altro nel 2012 è stata anche insignita del premio come miglior biotecnologia ad Achema una delle più importanti fiere del settore chimico in Germania Basf la stessa Basf negli Stati Uniti ha comprato Verenium società biotecnologica per entrare nell'importante mercato degli enzimi che vede Novozymes come leader di mercato DuPont e poi adesso Basf sapete che Basf a quanto pare sta addirittura preparando una controferta per andare a inserirsi in quella che è la fusione tra DuPont e Dow allora c'è grande fermento grande fermento grazie alle biotecnologie e naturalmente le biotecnologie che poi trovano applicazione nel concetto di bioraffineria c'è un dato importante dal nostro punto di vista davvero significativo un dato che ci dà la Festel Capital una società tedesca il livello di biochemicals che derivano di chemicals che derivano da biotecnologie era 92 miliardi nel 2010 228 miliardi nel 2015 e arriverà a 515 miliardi nel 2020 significa una crescita del 20% ogni anno e questo togliendo diciamo senza considerare biocombustibili e la parte di biofarmaceutica quindi ancora una volta dimostrazione il biotech è il motore della bioeconomia e sempre di più lo sarà motivo per cui dal nostro punto di vista occorre come paese sempre di più investire in biotecnologie questo diciamo per dire come funziona poi il concetto della catena di valore industriale quindi diceva anche prima il professor Fava il futuro è biobase ne possiamo dire il futuro è biotech ma anche il presente questi sono dati dell'Ocse vedete insomma quale sarà il peso e l'importanza delle biotecnologie nel 2030 in tutti i comparti industriali dalla chimica all'agricoltura alla farmaceutica fino ad arrivare al 2,7% del PIL mondiale e questi sono dati vecchi dal mio punto di vista oggi probabilmente questi dati sono ancora maggiori se dovessimo fare un'analisi accurata questo significa grandi opportunità per l'industria questo invece è un dato che ci fornisce il progetto biotech che ha lanciato l'Unione Europea vedete insomma che la domanda di prodotti biobase è destinata a crescere sempre di più come si comporta l'Italia beh l'Italia in tutto questo gioca la sua la sua parte perché il biotech è un settore che generalmente sta crescendo questo è il dato riferito a tutte le biotecnologie oggi abbiamo 384 imprese e se andiamo a vedere quello che è diciamo lo spaccato del biotech bianco e verde che secondo noi rientra nel concetto di bioeconomia vedete che le imprese sono in crescita oggi una percentuale significativa del totale del biotech è fatto da white e da green anche se poi naturalmente il dato del turnover è ancora un dato molto basso perché sono imprese di ricerca molto spesso spin off universitario micro imprese e quindi non hanno diciamo così tecnicamente si dice bruciano cassa e ancora non hanno fatturato però sono un grandissimo potenziale per la crescita del nostro del nostro paese e quindi chiaramente se ne guardiamo tutto l'insieme oggi ne possiamo dire tranquillamente che l'Italia è uno dei player maggiori a livello non solo europeo ma mondiale questi sono alcuni nomi di imprese che sono attivi nel nostro paese grandi gruppi come Novamont come Mossigisolfi con Beta Renewables e Biochempex ma anche la GF Biochemicals che è una realtà che sta producendo acido levulinico da biomassa in campagna e che qualche settimana fa ha fatto un'acquisizione importante nel mercato americano comprando la Segetis significa che in qualche modo diverrà una diciamo monopolista nella produzione di acido levulinico da biomassa e dei suoi derivati e poi tante altre imprese e anche in questo caso la regione Basilicata comunque ha qualcosa da dire perché non solo ha centri di ricerca importanti come Metaponto Agrobios qui o come l'Enea ma poi anche delle realtà biotecnologiche una sicuramente conosciuta quella della Gnosis ma io ho scoperto recentemente la Comet Bio-Refening che è una società canadese che ha adesso sviluppato un impianto industriale in Ontario a un impianto pilota qui in Basilicata grazie alla collaborazione con l'Enea quindi la dimostrazione anche in questo caso dell'eccellenza della nostra ricerca e dell'opportunità che la ricerca ci dà di attrarre investimenti nel nostro paese naturalmente l'auspicio è che questo impianto dimostrativo si possa trasformare in un impianto industriale su scala commerciale e il fatto che la regione Basilicata oggi presenti una strategia e si sia dotata una strategia naturalmente gioca un ruolo essenziale ora noi abbiamo realizzato grazie al contributo e alla collaborazione di Intesa San Paolo un'analisi di quella che è la situazione della bioeconomia nel nostro paese questo perché non avevamo uno spaccato sull'Italia poi naturalmente siamo già d'accordo con il professor Fava di mettere insieme i dati che abbiamo raccolto separatamente però diciamo non sono molto differenti prima si dava il dato 240 miliardi secondo l'analisi di Intesa San Paolo sono 244 miliardi quello che voglio sottolineare è quanto comunque la realtà della chimica biobase sia una realtà importante anche se qua viene espresso anche a livello di potenziale ma parliamo già oggi di 20 miliardi di euro quindi sono cifre significative tutto questo però appunto in assenza di una strategia quindi per questo dico oggi è davvero una giornata importante perché abbiamo una notizia da parte di un rappresentante del governo che ci dice ci sarà una strategia entro la fine prima dell'estate ma perché è importante la strategia io lo faccio dire a John Bell che è il direttore della direzione bioeconomia della commissione europea ho avuto l'opportunità di intervistarlo per il mio blog che è ilbioeconomista.com faccio un po' di promozione e lui sottolineava un aspetto importante la bioeconomia per diventare in realtà ha bisogno di avere strategie nazionali e regionali non solo perché questo permette comunque un confronto e soprattutto di ragionare in una maniera diciamo intersettoriale perché il dato oggi è molto importante che si metta insieme il cluster agrofood e il cluster chimica verde molto spesso nelle discussioni che noi facciamo sulla bioeconomia manca tutta la parte del mondo agricolo che però è essenziale e centrale in qualsiasi tipo di ragionamento e lui dice poi un'altra cosa importante non esiste un concetto solo di bioeconomia esistono le bioeconomie quindi ciascuna regione ciascuna nazione deve poter avere una propria strategia ora noi abbiamo alcune idee su quelli che devono essere i punti alla base di una strategia regionale nazionale innanzitutto ci deve essere comunque un organismo consultivo che volete abbia come modello quello che sta facendo la Germania da tempo lì è il German by Economy Council comunque ci deve essere un'autorità che in qualche modo faccia da cabina di regia io vedo che ci sono molti tavoli oggi personalmente io ho difficoltà a capire dove vengono portate avanti le discussioni perché tutti parlano sì c'è il tavolo poi ci accorgiamo che sono tavoli differenti allora probabilmente meno tavoli e più sinergie e bisogna mettere insieme realtà diverse quindi non soltanto l'agro food la chimica verde ma anche l'ambiente ma anche la ricerca le infrastrutture i trasporti l'aspetto logistico è fondamentale in qualsiasi piano di sviluppo figuratevi per un settore un metasettore come la bioeconomia vanno create filiere agroindustriali e va introdotto un sistema di appalti pubblici verdi in questo senso siamo davvero contenti che questo sarà un punto all'interno della strategia nazionale va poi una cosa che diciamo lo dico qua perché abbiamo avuto modo di discutere in passato qui a Metaponte Agrobios noi sappiamo quello che è stato il problema della comunicazione sul tema della transgenesi ora evitiamo che problematiche di questo tipo vengano anche nel campo della bioeconomia quindi comunicazione bisogna comunicare molto bene bisogna far capire che la bioeconomia è una realtà che crea sviluppo e che crea posti di lavoro quindi il tema del lavoro verde e soprattutto dobbiamo capire che c'è necessità di formare anche nuove figure professionali quindi l'importanza dell'educazione e della formazione e poi naturalmente dicevano gli strateghi del Pentagono lo citavo ieri già con l'assessore Liberali non c'è visione senza risorse se no si tratta di allucinazioni quindi vanno messe anche delle risorse allora detto questo cito ancora John Bell per dire che la bioeconomia è un processo irreversibile lo è soprattutto dopo la COP21 di Parigi perché il tema dei cambiamenti climatici è un tema fondamentale che noi dobbiamo affrontare perché il cambiamento climatico è reale siamo usciti usciremo dall'età del petrolio molto prima che il petrolio si esaurirà d'altronde siamo usciti dall'età della pietra senza che finissero le pietre quindi insomma dobbiamo essere consapevoli che non è che dobbiamo aspettare l'esaurimento del petrolio e delle fonti energetiche fossili bisogna lavorare bisogna lavorare affinché quella che chiamiamo rivoluzione davvero possa essere realizzata in questo senso mi aiuta una citazione in questo caso di Machiavelli del Principe per dire quanto è difficile questo storicamente introdurre dei cambiamenti perché chiaramente chi vuole introdurre un cambiamento deve scontrarsi con chi difende rendite di posizione e deve convincere quelli che trarrebbero beneficio del cambiamento che questo cambiamento davvero è importante detto questo io credo di essere stato nei tempi anzi forse aver guadagnato qualche minuto vi invito invito davvero tutti voi a questo evento che noi organizziamo ormai dal 2011 è un evento che ha la finalità di mettere insieme tutti quelli che in Italia si occupano di bi economia e non solo perché l'evento ormai dall'edizione di Napoli del 2013 è un evento internazionale viene considerato a livello europeo uno degli eventi diciamo di punta della bioeconomia siamo stati dopo Napoli a Genova l'anno scorso a Lodi saremo il 22 il 23 di settembre a Vicenza per parlare di economia per parlare di bioeconomia e anche di economia circolare e per farlo abbiamo bisogno di tutte le realtà che nel nostro paese lavorano affinché la bioeconomia sempre di più sia una realtà grazie a tutti grazie mille grazie mi sembra che questi due interventi abbiano utilmente completato il quadro abbiamo diciamo la possibilità di rubare 10 minuti al pranzo che era previsto alle 12.40 ma anche credo tranquillamente possa iniziare attorno alle 13 per eventualmente aprire alle domande vostre del pubblico molti dei relatori della mattina sono ancora qua con noi quindi nel caso ci sia qualcuno che ha dei contributi da dare o vuole porre delle domande dirette ai relatori siamo qua a disposizione prego non credo che ci siano dei gelati quindi forse vi inviterei qua le sporgo il microfono c'è una cosa artigianale buongiorno sono Pino Lacicerchia sindaco del comune di Craco oggi pomeriggio ci sarà tra l'altro un intervento del capodipartimento dell'agenzia nazionale per la coesione che ha visto nella montagna materana quindi uno degli otto comuni di questo cluster di comuni che si dovrebbe impegnare in una sfida avvincente nel mettere in campo strategie per lo sviluppo dei territori interni ora è evidente che qui c'è già una partnership estremamente ampia di istituzioni universitarie di ricerca di enti e non può che essere un piacere per noi avere tra gli interlocutori fondamentali Metaponto Magrobios che da anni lavora su questi temi che è estremamente legata al nostro territorio per aver sviluppato anche partenariati diciamo di progetto io ho proposto sul tavolo di concertazione tra i sindaci l'autorità di gestione della regione Basilicata e naturalmente colgo l'occasione della presenza dell'assessore Raffaele Liberali che è estremamente attento a questi processi di prendere come sta questo tavolo e di farlo sedere con noi noi abbiamo esattamente undicimila abitanti su un territorio di 30.000 ettari c'è una delle densità demografiche più basse del mondo mio comune Craco 10 abitanti a chilometro quadro con potenzialità nel settore agroalimentare e quindi di tutto ciò che dal territorio può arrivare in termini di risorse per i processi industriali di innovazione che voi presentate stamattina e quindi io vorrei invitare questo tavolo coordinato dalla regione che è già impegnata con noi e dall'Agenzia Nazionale per la Coesione a sedersi insieme ai sindaci del territorio e dire come noi in questo progetto che durerà fino al 2020 possiamo andare nel territorio a fare progetti pilota innovativi sperimentali dimostrativi coinvolgendo chiaramente l'Università della Basilicata che già opera nel territorio con progetti innovativi che coinvolgono le aziende quindi è un invito a ragionare a lavorare insieme per portare anche fuori dai momenti importanti del confronto accademico tra i ricercatori queste esperienze nel territorio dove dovrebbero avere poi il successo che noi ci auguriamo possano avere grazie altri contributi prego buongiorno mi chiamo Lilian Felice poiché ha parlato un sindaco ci tengo a dire questo ho un'agenda dove è scritto the more you know the less you need più conosci e meno hai bisogno allora vi voglio solo segnalare che esiste un caso di studio importante in questa regione e nella regione Calabria noi abbiamo realizzato come istituto con una rete internazionale un progetto per lo sviluppo delle aree rurali che si chiamava Alliance e ha una memoria in questa regione molto importante questo progetto è stato scelto dall'Ox negli anni come un progetto esemplare a livello mondiale di come si fa cluster start up in regioni fragili dove non ci sono distretti da questo progetto nacque poi una ricerca industriale che oggi ha dato vita al primo prototipo di bioraffineria con due tecnologie di cui una già brevettata l'altra in questi giorni nonostante nessuno ci credesse al fatto che potesse nascere così dal basso un progetto con questa forza quando noi credemmo nella bioeconomia era il 2001 cominciamo una ricerca per sfruttare una risorsa locale di due tipi la ginestra che è un arbusto che nasce molto diffusamente che ha una storia radicata è la storia tessile per cui la nostra bioraffineria è una particolarità cioè protegge non mira a creare biofuel o biomateriali ma protegge innanzitutto la cellulosa per cui chi lo vorrà potrà vedere perché per fortuna in questi mesi siamo arrivati abbiamo estratto fibra tessile che è stata lavorata industrialmente abbiamo purtroppo tre gruppi industriali che sono tutti del nord tra Novara Brescia ma noi speriamo di attrarli se c'è un sistema di politiche e abbiamo prodotto biocellulosa con gli scarti che è qui abbiamo prodotto carte per packaging purtroppo senza quel sistema di politiche soprattutto nelle regioni del sud ma esiste ci siamo ce l'abbiamo fatta e vogliamo continuare grazie 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 mi sono testimoniali di molte importanze che danno concretezza radicamento ai discorsi che abbiamo fatto qualcun altro che desidera intervenire domande per i nostri relatori bene allora direi che più o meno in tempo vi ringrazio molto ringrazio tutti i relatori credo sia stata una mattinata molto interessante vi pregherei di rientrare alle 14 puntuale perché abbiamo no chiedo scusa forse c'è una comunicazione ah non devo parlare no volevo dire al 14 puntuale che ricomincia la sessione c'è una comunicazione comunicazione di servizio eccoci grazie a tutti ok allora abbiamo adesso un buffet che è in questo edificio quindi uscendo sulla sinistra è un edificio il più basso di tutti e lì c'è un buffet che viene viene dato a tutti quindi poi rientriamo come diceva giustamente il chairman puntuali grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti